Avvertenza, cliccate nell'angolo in alto a sinistra per saltare l'intro. Al termine del trailer, non scappate. Buona visione. Ciao ragazzi, eccomi qui in veste di presentatrice per lanciare il nuovo video di Francesco Carabro. Ma prima vi presento, io sono Kilari del Kilari Channel e nel mio canale troverete video... Beh, non voglio rubarvi altro tempo, quindi in descrizione lascio un link del mio canale. Fateci un salto se vi va. Bene, direi che siamo pronti per il trailer di oggi. Le 5 leggende e il calice di fuoco. Io vi saluto e vi auguro buona visione. Buio in sala! Abbiamo tanti nomi e prendiamo tante forme diverse, portiamo meraviglia. e speranza. Portiamo gioia e sogni. Siamo Sandman, la fata del dentino, il coniglietto di Pasqua e Babbo Natale. e abbiamo poteri più grandi di quanto possiate immaginare. il nostro compito è proteggere tutti i bambini del mondo, perché finché crederanno in noi, li proteggeremo anche a costo della vita. quel sogno è finito. E' tempo che la paura domini il mondo. non abbiamo mai affrontato una tale minaccia e quindi ci batteremo. Ali al vento, damigelle, niente pietà! mai sfidare un coniglio. Il mio esercito è pronto. Tutti alla slitta! e un forte grazie va alla simpatica Killeri91, la seconda Youtubers che si è prestata a essere presentatrice di un trailer mashup. Fate un giro sul suo canale. Signori, questo era anche il mio ultimo video per quest'anno. E come promesso, questo era il trailer di Natale. Come vedete qua, in camera mia di Natalizio c'è ben poco, ma in compenso ho trovato lui, che c'è sempre stato e sempre ci sarà. E gli manca pure il naso. Però possiamo mettere una musica di sottofondo, un po' di neve fettata, un agrifoglio da qualche parte e i colori molto più freddi. Così sembra più Natale, eh? Sei davvero un bambino prodigio. Ed ora, il trailer mashquiz. Il vincitore della puntata scorsa è stato Woh 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 che ha indovinato il fotogramma di Braveheart. Ma la domanda di oggi è... Da quale film è tratto questo dialogo? 56. Non funzionava niente. Sì, però se il villaggio dei Caraibi va in tilt, i pirati mica si mangiano i turisti. Io non posso più aspettare. Rispondete con un commento qui sotto e il primo a rispondere esattamente sarà proclamato vincitore nella prossima puntata. La puntata del 2013. Ricordo che se tra di voi c'è uno youtuber che ha piacere di presentare un trailer mashup non deve far altro che scrivermi in privato. E io lo contatterò. Infine, grazie ai 131 iscritti del canale e ai 116 mi piace della pagina di Facebook. Ah, vi ricordo che sono anche su Twitter. Buon Natale a tutti, da Francesco di Trailer Mashup. E da loro sacchiose senza naso.